Si è svolta nell'ex teatro comunale di Montemaggiore a Metauro l'Assemblea annuale delle Proloco provinciali aderenti all'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, che sabato scorso hanno votato per il nuovo direttivo. 9 i consiglieri eletti che rimarranno in carica per il quadriennio 2016-2020 e che il prossimo 4 maggio dovranno eleggere il presidente, il suo vice e il segretario. E sono Damiano Bartocetti, Etienne Lucarelli, Laura Silvestroni, Claudia Gualandri, Nazareno Latini, Eleonora Marocchi, Valeria Bartocci, Mario Conti e Francesco Gulini. Dalla prossima settimana inizierà sicuramente una fase di ascolto su tutte le Proloco della provincia di Pesorulbino. Abbiamo secondo me un bel progetto, mercoledì ufficializzeremo le cariche istituzionali del consiglio direttivo della Proloco, che oramai sono quasi definite, però mercoledì sera a Cartoceto arriverà l'ufficialità di tutte le nomine del nuovo consiglio direttivo che oggi qui a Montemaggiore è stato eletto tra l'altro all'unanimità da tutte le Proloco della provincia di Pesorulbino. Ad aprire i lavori dell'Assemblea è stato il vice presidente dell'UMPLI, Lorenzo Bonafede, al quale sono seguiti i saluti del presidente della Proloco di Montemaggiore, Tonino Gattoni, e del sindaco Alberto Alesi. Abbiamo accolto questo invito dalla vecchia dirigenza dell'UMPLI provinciale per ospitare appunto questo evento a Montemaggiore. Mi fa piacere che la gente sia venuta, eravamo un bel gruppo e abbiamo organizzato anche una bella giornata. All'incontro a Montemaggiore ha preso parte anche il presidente dell'UMPLI Marche, Mario Borroni. Ci siamo trovati in questo bellissimo ambiente, assemblea numerosa e partecipata, con interventi molto qualificati. E' stato eletto il nuovo comitato provinciale di Pesaro, al quale io come presidente regionale non mi resta che augurare buon lavoro.